Nel centenario della scomparsa di Giacomo Puccini debutta Arezzo al Teatro Petrarca venerdì 27 settembre il nuovo Gianni Schicchi. L'opera comica del celebre compositore toscano torna con una nuova produzione fortemente voluta dal comune di Arezzo in collaborazione con la fondazione Guido d'Arezzo. Il ruolo del protagonista sarà interpretato dal baritono di fama internazionale Mario Cassi. Un'opera toscana, un'opera che rappresenta veramente un melting pot di giovani promesse preparate da grandissimi docenti che hanno lavorato veramente da marzo duro per selezionare nove che sono in palcoscenico con me a fare veramente un bellissimo lavoro. Una regia veramente di grande qualità firmata da Manu Lalli, un direttore d'orchestra come Fabrizio Carminati con il quale ho il piacere di lavorare da più di 22 anni quindi sono felicissimo di riuscire a portarlo qui ad Arezzo quindi veramente una emozione, felicità e gratitudine sono veramente le tre cose che mi vengono in mente. Il ritorno dell'opera lirica prodotta ad Arezzo per Arezzo con talenti aretini e questo veramente è incredibile, abbiamo veramente un ritrovarsi di per dire il preparatore musicale, assistente musicale Andrea Severi, assistente di Zubimeta al Maggio Fiorentino, al Festival Verdi, ci siamo trovati in tutto il mondo con lui è la prima volta che lavora ad Arezzo quindi direi un omaggio secondo me più alla retinità nel mondo che si ritrovano qui a festeggiare Puccini. Grazie